Andiamo che tutti stanno guardando la torre, mossa valida, partenza molto forte del Bruco, Drago, Oca, Istice, Aquila, andiamo verso il primo San Martino con il Bruco che fa l'andatura di testa, Rio sta facendo scorrere il proprio Barbaro davanti al Palazzo Comunale, seconda posizione per l'Aquila, terza per l'Istice, un buon ingresso del Bruco all'Alcasato, l'Istice che fa allungare, eccolo che va sul centro pista, l'Istice prende la prima posizione, secondo il Bruco, Aquila, Pantera e gli altri nelle retrovie. Andiamo al secondo San Martino, sempre l'Istice che sta galoppando, Oppio sta dimostrando che gradisce galoppare in piazza del campo ed ora veramente si conclude il secondo giro e anche il pantino nell'Istice riduce l'andatura, poi gli altri che stanno facendo questo canter di lavoro con totale tranquillità. Andiamo così al terzo ed ultimo San Martino con l'Istice e poi gli altri che si perdono un po' l'intero anello di Tufo dove ecco ancora Oppio che è ritornato in piazza dopo due anni di assenza e conclude la quarta prova. Oppio, l'Istice vittorioso nella quarta prova.